Siamo con Radek Jelinek, presidente Mercedes Italia. Allora Radek, Mercedes è arte, come mai? Allora Mercedes-Benz ha inventato la macchina, Mercedes Jelinek è stata la prima protagonista, la donna del nome del Mercedes. Per noi l'abbinamento design, cultura, arte, sport è molto importante. Con AMG siamo stati sempre molto abbinati a quello che è arte e cultura, lifestyle, quindi penso che è importante per la gente non solo prodotto molto sexy, molto bello, molto sportivo, sicuro, ma anche deve essere espressione del lifestyle, quindi i contenuti sono importanti, le esperienze che sempre sono abbinate a cultura, arte, viaggi. Quindi questa mostra è una espressione o continuazione di queste espressioni, è bellissima. Scedes e fashion, anche questa è una forma d'arte? Io penso di sì, diciamo arte, la definizione d'arte è molto flessibile, penso, la possiamo considerare arte, per quello abbiamo anche da tanti anni fatto il Fashion Week in varie città del mondo, New York Fashion Week, ancora a Berlino c'è Mercedes Fashion Week, Mexico City stiamo facendo Fashion Week, quindi ci sono ancora varie città dove Mercedes Fashion Week è una parte integrale del programma nostro, la comunicazione, come veramente il design, che è molto vicino a fashion, quindi la macchina è un ambiente veramente bello, interessante, attrattivo, quindi anche quello per noi è importante abbinamento. Grazie mille, Rade, e forza Mercedes. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.